Diciamoci la verità, ripartire da Verona è stato abbastanza semplice vista la consistenza dell'avversario che per tutto il primo tempo ha giocato una partita incomprensibile con un 11 schierato da Baroni che ha fatto davvero fatica a contenere le folate offensive degli azzurri. Ma nel secondo tempo si è rivisto quel Napoli che seppur controllando il match ha più volte rischiato di compromettere una gara impossibile da perdere. Ed è per questo che restano le perplessità. Ascoltiamo i tifosi. Ho visto veramente un bel primo tempo anche se secondo me comunque il Verona non è che fa proprio tanto tanto testo. L'unico dubbio è che il secondo tempo ha sempre questi cali non so se siano fisici o mentali. Spero che l'allenatore finalmente abbia capito che il Napoli deve giocare a memoria come giocava l'anno scorso anziché cercare di stravolgere il gioco. Solo che al momento abbiamo battuto solo squadre un po' più di seconda fascia diciamo così adesso il test importante veramente con Milano con le squadre un po' che sono un po' sopra di noi. La reazione c'è stata poi bisogna trovare la continuità. Cavara a farti il suo quello che è nella sua natura però anche Politano che sta in una grandissima forma con Raspatori che ha legato bene il gioco. Buon Napoli però concediamo un po' troppo in difesa. Piano piano stiamo preoccupando. Alla fine siamo 5 punti dalla prima. Noi siamo i primi siamo i campioni d'Italia. Siamo a 5 punti. Piano piano arriveremo.